e l'inferno cari amici l'inferno quando vado sulla grande galleria di youtube io trovo dei video sorprendenti che riguardano l'antidà ma soprattutto riguardano l'inferno non riguardano il paradiso, riguardano l'inferno ora vengo a sapere che l'inferno ha sette gradi, a sette livelli in questo forse tanti dividi sentiamo un po' cosa dice, sentiamo eh destino dell'anima dopo il nostro passaggio terreno oggi voglio condividere con voi le straordinarie visioni di santa veronica giuliani che ci ha offerto uno sguardo intenso e toccante sui sette gradi dell'inferno non per incuterci timore ma per guidarci verso una vita più consapevole e piena di fede capito? non per incuterci timore no 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 non per incuterci timore capito? se l'inferno c'è quasi da per scontato quasi da per scontato che l'inferno c'è che c'è a sette gradi e si dice che l'inferno è per l'eternità chi ci va ci sta per l'eternità in mezzo a fuoco ci sono sette gradi ci sono sette livelli eh non c'è non sette gradi di temperatura sette livelli e cari amici e la grande gatteria di youtube pare che sia al servizio di di questo loro che parlano dell'inferno non so perché non so perché e mi mi pare un'offensiva diciamo alla vandea alla vandea date informarvi cosa vuol dire alla vandea che è una legione della franza e mi sembra pure che siamo di fronte al tribunale del santo ufficio beh per fortuna che ci stanno le mie opere che ci consolano e le trovate tutte in ogni libreria d'italia in ogni libreria d'italia l'inferno cari amici l'inferno a tutti tanti cari saluti da serabino mazzoni Grazie.